Un nuovo filone di indagini sembrerebbe prospettarsi al comune di Castrofilippo, ente già sciolto per infiltrazioni mafiose quasi un anno fa. La direzione distrettuale antimafia di Palermo ha disposto una nuova acquisizione di atti. Carabinieri e guardia di finanza per tutta la giornata di ieri hanno visionato determini e delibere, soprattutto di giunta, risalenti ai due mandati consecutivi dal 2000 al 2010 del sindaco Salvatore Polito a dibettimento per associazione mafiosa nell'ambito dell'inchiesta Emily che portò all'arresto di 5 castrofilippesi, tra i dei quali, dopo condanne tra 8 e 10 anni con l'abbreviato in primo grado, hanno impugnato la sentenza in appello. Che il ciclone giudiziario non fosse terminato lo faceva presupporre la repentina chiusura delle indagini preliminari che hanno abbracciato appena un terzo del periodo massimo consentito. Non è la prima volta che al comune di Castrofilippo vengono acquisiti atti durante l'amministrazione Ippolito, già in più circostanze la direzione investigativa antimafia ma anche i carabinieri e polizia avevano sequestrato alcuni fascicoli al palazzo di città. La stessa notte del Blitz Family, nel settembre del 2010, l'ufficio tecnico comunale fu rivoltato come un calzino e copie di numerose delibere furono sottratte anche dall'abitazione dell'ex primo cittadino. L'opera più robusta di controllo però fu compiuta dalla commissione d'accesso inviata dalla prefettura di Egrigento che chiese ed ottenne poi lo scioglimento del comune di Castrofilippo per inquinamento mafioso. Da allora, oltre all'amministrazione comunale sostituita dalla commissione prefettizia, è mutato anche l'organigramma. I dirigenti comunali o sono andati in pensione o sono stati sostituiti da sovraordinati già oggi alla prima proroga. L'unico a dimettersi, anzi tempo, è stato il funzionario del settore contabile per ragioni a noi sconosciute. L'area finanziaria ha posizione organizzativa alquanto delicata, per adesso è sorretta solo da un ragioniere incaricato all'esterno ma a breve si insedierà un nuovo sovraordinato. Negli ultimi giorni i commissari hanno poi cambiato mansione anche a vari impiegati, novità che renderanno meno agevole il lavoro della DDA che non potrà contare sulla memoria dei dipendenti spostati da un ufficio all'altro anche se carabinieri e finanza hanno le idee chiare su ciò a cui mettere mano. Gli ispettori torneranno al comune di Castrovilippo martedì prossimo per nuove acquisizioni. Nella sola giornata di ieri sono state fotocopiate già centinaia di atti. Appuntare il dito contro l'ente e la sua facile permeabilità e gli interessi mafiosi sono i pentiti Giuseppe Sardino, Ignazio Gagliardo, Maurizio e Beniegati.